Carissimi amici di Midico Snake, allora mi metto in questa inquadratura e sperando che riusciate a sentirmi allora in questo momento mi trovo a Salon in provincia di Brescia e sto girando un nuovo vlog per provare la mia fotocamera che avete avuto modo di vedere dalle stories di Instagram quindi quale buona occasione con questi tipi di paesaggi provare la mia fotocamera Ciao 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 Sono amici di Midico Snake, avete avuto già modo di vedere qualche clip della mia nuova fotocamera, la Canon SX730HS allora per quanto riguarda le immagini, registrazione in Full HD a 30 fps ma adesso sperando che l'audio venga bene perché la voglio utilizzare anche per girare tutti i miei vlog futuri che arriveranno sul canale spero che riusciate a sentirmi bene e fatemelo sapere qua in basso nei commenti e intanto sapevano del mio arrivo a Salon e mi hanno steso un lungo tappeto rosso fino in fronte alla strada fantastico 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 great nice fantastico youtube fantastico rileb e di me lo secco punto della situazione su questo blog per quanto riguarda la prova della fotocamera la canon sx 730 hs allora le clip ok stabilizzazione ottica ok audio beh diciamo nella media per quanto riguarda la stabilizzazione ottica anche se abbiamo il un leggero tremolio con le nostre mani la fotocamera riesce a stabilizzare abbastanza bene video anche se abbiamo fatto un ulteriore zoom quindi devo dire che si sta comportando abbastanza bene beh devo rivedere un po le clip a computer per sentire un po l'audio come va ma sperando che vada bene perché vi ripeto la voglio utilizzare per i miei blog futuri a Grazie a tutti 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 in basso nei commenti e io posso chiudere questo video lo ripeto e se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su e iscrivetevi al canale perché ci rendo tantissimo se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina delle notifiche per maniera aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video voglio ricordarvi che sono presente anche su instagram chioccio annunico se non lo ricorda l'animazione ma trovate link anche qua in basso nella descrizione e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale youtube ciao